L'arbitro, una figura nominata solo quando commette errori. Scopriamo insieme cosa ne pensano i bresciani. Cosa le viene in mente quando le dico la parola arbitro? Una persona che... Arbitro, rispetto, regole... Corruzione. Un giudice in una competizione. Direttore di gara. Arbitro a gioco, una partita di calcio con un fischietto e una divisa. Mi sai dire come l'arbitro incomincia la partita, come determina di chi è il possesso del campo o della palla? Il fischietto, penso. Non ho capito. Lancia una monetina. Per far capire gli animali. Ha le sue regole, il suo regolamento. Gli altri metodi alternativi all'uso della monetina? A parola, non lo so. Non so neanche cosa è la monetina, quindi... Davide McNamara, un arbitro inglese, per stabilire chi andasse il possesso della palla o del campo, ha fatto sfidare i due capitani a fare mora cinese. E noi oggi ci stiamo per proporre di fare una sfida con il nostro campione. E tu, senza monetina, come inizieresti? No. 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 Grazie a tutti.